Buonasera dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Gianna Attasio. Sulla A1 in direzione Roma 4 km di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. In direzione Bologna code a tratti tra il bivio di Firenze Nord e Barberino. Sulla A11 rallentamenti tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. Su raccordo Siena-Firenze per lavori rallentamenti in entrambe le direzioni tra Badesse e Siena Nord. Su raccordo Siena-Bettolle per lavori rallentamenti tra Casetta-Monte Aperti e Caselnuovo Berardenga e tra Rapolano e Colonna del Grillo. Sulla FIPILI ripartono i cantieri tra Montelupo ed Empoli Est. Dal 20 ottobre al 6 novembre è chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni con chiusura dello svincolo di Empoli Est in ingresso in direzione Firenze. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!